Applausi 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 Sì Dora! Dora! Fulconta 3, numero 1, 967, KG, guinte, 2-1, dei kinder filan, record! Ring, numero 1, next five, Edmond, Bodelema, France, Big Lebo, KG, guinte, get ready! Ring, numero 1, next five, Edmond, Bodelema, France, Big Lebo, KG, guinte, e la Russia per la ultima final per la ultima finalità la Bulgaria Red Corner la ultima finalità e la ultima finalità Grazie. 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 Mariusz, Mariusz, walczysz dzisiaj? Nie. Non ci sono 7-1? Non ci sono 7-1? Non ci sono 7-1? Non ci sono 8-1 Non ci sono 7-1 Non ci sono 8-2 1-1 1-2 1-2 1-2 1-2 1 2 1 2 Grazie a tutti.